che cosa c'è da dire ma di 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 mi che cosa c'è da scrivere ci vuole una canzone al corpo fuori dal normale sempre e sempre sta canzone uaio e sempre sta canzone la camera via sono i mille di questa canzone e scompani sento che cazzo insomma un bel dico ciao ma se non pari ma te compri in tre e si do si do a io tutto un nuovo gioco perchè siamo tutti i medi in giudali questo è un nico desideri siamo un po' desideri siamo un po' desideri siamo un po' desideri clementino è pieno di white campani è stato bello made in sud ah ah ah